Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia. Io sono Ikudo e questa è la Biblioteca di Alessandria. Se pensiamo al 1400, 1500, forse anche al 1600, sicuramente insieme alla Spagna, che costruirà in quel periodo l'Impero, alla Francia e forse perché no all'Italia in tutte le sue tante derivazioni, il vero protagonista della storia europea è sicuramente l'Impero Ottomano, che proprio tra il 1400 e il 1500, intesi come secoli, quindi XV-XVI secolo, costruirà la sua grandezza. C'è probabilmente una data simbolo di questa grandezza, che è il 1453, cioè quell'anno in cui finalmente, per loro ovviamente, gli Ottomani riuscirono a mettere le mani su quella che era la vera e propria città dei sogni, cioè Costantinopoli o Bisanzio, che dir si voglia, rinominandola poi Istanbul. All'epoca il cuore della cristianità, che se vogliamo poteva essere visto come l'oppositore naturale proprio della crescita degli Ottomani, non poteva che essere Roma e tutti abbiamo letto da qualche parte sui libri di storia che uno dei grandi sogni degli Ottomani era quello proprio di mettere le mani su Roma e sull'Italia. Siamo abituati a pensare che nel secolo e mezzo successivo gli Ottomani abbiano cercato di raggiungere questo sogno tramite un'espansione principalmente via terra, l'espansione nei Balcani, il raggiungimento poi dell'Egitto, la crescita, l'arrivo fino a mettere sotto assedio in due occasioni la stessa Vienna. Sembra che questa fosse l'unica direttrice possibile di espansione per gli Ottomani. Eppure se ci pensate, fin dalla fine del 1400, quando gli Ottomani avevano conquistato proprio le coste albanesi, quelle greche, si stavano spingendo verso nord, verso quella che adesso noi conosciamo come l'ex Jugoslavia, già in quell'epoca l'Italia si trovava in realtà molto vicina ai territori Ottomani, appena al di là dello stretto di Otranto. E' difficile pensare che gli Ottomani non avessero pensato a questo. E di fatti ci avevano pensato, tanto che nel 1480 gli Ottomani decisero di invadere proprio l'Italia. Beh, in realtà non si potrebbe proprio dire l'Italia. In realtà, come già sapete benissimo, l'Italia all'epoca era divisa in un gran numero di regni e in particolare al di là del canale d'Otranto si trovava il regno di Napoli, governato da Ferdinando, che passo però la storia come ferrante Un uomo che negli anni precedenti aveva non solo cercato di estendere il suo dominio sull'Italia, anzi proprio nel 1480 era impegnato come alleato del Papa in una guerra contro Firenze, ma che aveva anche più volte supportato tutti coloro che si opponevano agli Ottomani. Un po' per motivi di vicinanza diplomatica, di vicinanza commerciale, ma soprattutto perché si rendeva ben conto che proprio dall'impegno ottomano altrove dipendeva la sicurezza e la sopravvivenza delle sue coste. All'epoca troppo noti, troppo vicini erano le grandi spedizioni dei pirati musulmani, saraceni e poi arriveranno ovviamente anche quelli ottomani diretti contro le coste dell'Italia. Un impero in crescita come quello ottomano aveva comunque all'epoca due grandi spine nel fianco. La prima di queste spine, molto vicino alle coste ottomane, erano i cavalieri di Rodi, i cavalieri ospitalieri, che seppur non fossero in forze sufficienti ad attaccare e liberare, diciamo così, una parte dell'Anatolia, erano comunque una spina nel fianco perché attaccavano i commerci, attaccavano le navi, rendevano insicura la navigazione nell'Egeo alle navi ottomani e ovviamente all'epoca la ricchezza viaggiava principalmente via mare. L'altra grande spina nel fianco, di cui in effetti però nel 1480 gli ottomani avevano, si erano già quasi del tutto occupati, erano gli albanesi. Ora, pensandola oggi, in cui le due principali comunità musulmane nei Balcani sono quella albanese e quella bosniaca, forse pare un po' strano. Ma mentre gli ottomani si espandevano nei Balcani, gli albanesi furono uno tra i primi popoli ad offrire loro una grande resistenza, soprattutto grazie all'opera di Giorgio Castriota, come conosciuto in Italia, piuttosto che Scanderbeg, che è il nome vero, che insieme ai suoi partigiani oppose per anni una fierissima resistenza. Alla fine però gli albanesi furono costretti ad abbandonare la patria che venne occupata proprio dagli ottomani e ripararono anch'essi in Italia. Era ovvio che per il sultano ottomano Maometto II, che peraltro è lo stesso che conquistò Costantinopoli, Napoli era diventato un problema. Era diventato un problema perché proteggeva i suoi nemici, era diventato un problema perché aiutava i suoi nemici. Gli stessi cavalieri di Rodi ricevettero più volte aiuti sia in navi che economici proprio da Napoli, che era forse uno degli pochi stati europei insieme al papato, ad aiutarli, ma soprattutto poteva essere un'opportunità, un'opportunità per farsi delle fortezze in Italia e poi da lì puntare, magari verso Roma. Nel 1480 Mehmet organizzò due spedizioni. La prima, che sembrava essere quella più importante a prima vista, che in realtà era semplicemente una distrazione, puntava come al solito ad attaccare Rodi. E fu talmente credibile che lo stesso Ferranti inviò due navi proprio in aiuto dei cavalieri. La vera spedizione, che però si stava ammassando a Valona, pronta a partire agli ordini di Jeddic Ahmed Pasha, era invece una spedizione il cui obiettivo, almeno inizialmente, sembrava essere la città di Brindisi. Quanti erano questi ottomani che erano pronti a invadere l'Italia? Beh, le numeri sono molto vari. All'epoca si parlò addirittura di 300-400 navi con 100.000 uomini a bordo. Oggi invece si stima che probabilmente le navi non erano più di 150, tra quelle da trasporto, quelle ausiliare, quelle che portavano a vivere i rifornimenti e quant'altro, e gli uomini dovevano essere tra i 18.000 e i 20.000. Non era una forza di invasione enorme, ma a tutti gli effetti al comando di Jeddic Ahmed Pasha, che peraltro molto probabilmente era un rinnegato greco, si pensa, perché era stato anche governatore di Tessalonica. Secondo altri invece era proprio un rinnegato albanese, chissà, non lo sapremo, ma sicuramente in occidente era chiamato volgarmente Giacometto. Agli ordini di Jeddic Ahmed Pasha c'era comunque un esercito molto agguerrito e soprattutto un esercito che aveva scelto il momento perfetto per attaccare Napoli. Perché perfetto? Beh, innanzitutto perché il primo problema che era quello di far arrivare la flotta sulle coste napoletane era reso molto molto più facile dal fatto che Venezia sarebbe rimasta neutrale. Venezia aveva da poco combattuto una lunga guerra contro i turchi, nel 1479 aveva firmato un trattato di pace perpetuo, che sulla carta doveva essere perpetuo poi durerà 16 anni, e visti le spese e quanto era stata lunga e complessa la guerra, che alla fine gli aveva affruttato comunque la possibilità di continuare a commerciare con l'Oriente, decise di rimanere fuori dalla contesa. Probabilmente la sua flotta sarebbe riuscita a bloccare quella turca, ma i veneziani decisero di non immischiarsi e non lo faranno, ve lo dico già, per tutta la durata di questa guerra. Il secondo motivo ve l'ho già detto prima. All'epoca Napoli era impegnata in una guerra. Il grosso dell'esercito napoletano si trovava infatti nel centro Italia, diretto verso Firenze, al comando del figlio peraltro di Ferrante. Inoltre, per poter rifornire e creare questo esercito, si erano tolte truppe di guardia, di supporto, proprio alla zona pugliese, alle varie città pugliesi, le quali non solo disponevano di poche truppe, ma erano anche molto poco preparate dal punto di vista delle fortificazioni, che in massima parte, tra cui anche quelle proprio della cittadina di Otranto erano fortificazioni che addirittura risalivano all'epoca bizantina, piuttosto che poco successiva a quella normanna, quindi parliamo del X-XI secolo, ed erano assolutamente inadatte, oltre che in pessime condizioni, a fermare un attacco moderno per l'epoca con i cannoni. Il 28 luglio le forze ottomane sbarcarono in Puglia. Secondo alcuni, inizialmente avrebbero dovuto sbarcare nella zona di Brindisi, ma le navi erano state mosse, spinte da un fortunale, alla fine sbarcarono a pochi chilometri a nord di Otranto, in quella che ancora oggi è conosciuta come la Baia dei Turchi. Il 28 luglio le forze, una nave dopo l'altra, sbarcarono, inizialmente rallentate da alcune truppe inviate proprio da Otranto, dagli ordini del re di Napoli, che però non riuscirono a impedire più di tanto lo sbarco. Anche grazie alla presenza della migliore fanteria ottomana, quella dei Giannizzeri. Il 29 luglio le forze ottomane raggiunsero proprio Otranto, come detto era poco difesa, aveva dalla sua un numero variabile tra i 2 e i 5 mila armati, di cui circa 1.500 e 2.000 erano soldati mercenari, mentre invece gli altri 3.000 erano probabilmente cittadini locali armati alla belle meglio. Otranto, come detto, disponeva di poche difese, anche fisica, aveva le mura bizantine, aveva un castello costruito da Federico II, che però era in pessime condizioni anche lui, e tra l'altro anch'esso era troppo vecchio per aver conosciuto le artiglierie, insomma non sembrava in grado di potersi difendere. Nonostante questo, quando gli ottomani inviarono un loro ambasciatore a chiedere la resa della città, i cittadini lo respinsero malamente. La richiesta ottomana era semplice, convertitevi, abbandonate il cristianesimo e avrete salva la vita. Apriteci le porte, occupiamo la città, convertitevi e vi lasceremo vivere. Gli otrantini risposero picche, e quando venne inviato un secondo ambasciatore, questo addirittura non lo fecero neanche avvicinare alle mura della città, ma da lontano lo colpirono con delle frecce e una lancia e lo lasciarono lì morto stecchito. La cosa ovviamente fece infuriare tantissimo i turchi, i quali consideravano quello un affronto incredibile, uccidere un ambasciatore, ancora adesso si dice ambasciatore non porta pena, e sarebbe abbastanza scortese farlo, e decisero di assaltare la città. Perché gli otrantini fecero questo? Non si sa. Forse pensavano di potersi difendere contando sulle poche mura, probabilmente contavano sull'aiuto che sarebbe dovuto giungere da Napoli, a cui avevano inviato dei messaggeri sperando di poter ricevere aiuto, ma questo aiuto non giunse in tempo. Lo stesso 29 luglio le artiglierie ottomane si misero in mostra. Iniziarono a colpire con una serie di colpi e detonazioni sempre più forti le deboli mura di Otranto. Le truppe mercenarie insieme alle poche uomini che erano in grado di combattere ben presto si ritirarono al comando di Francesco Zurlo, che era il capo peraltro della compagnia mercenaria si ritirarono nel castello per cercare la resistenza. Ma questo non fece nient'altro che spostare l'assedio dalle mura al castello stesso. Intanto truppe turche stavano attaccando tutti i centri intorno, piccoli villaggi, monasteri, abbazie, razziando e distruggendo tutto quello che si trovavano davanti. Tra l'altro in questi attacchi venne addirittura conquistato e bruciato il monastero di San Nicola di Casole, Casole non ho trovato la pronuncia, che all'epoca era una delle migliori biblioteche più fornite biblioteche d'Europa, che venne completamente distrutta e di cui adesso restano ancora i resti. L'assedio non durò però moltissimo. Il 29 luglio era iniziato, l'11 agosto al terzo e ultimo assalto infine i turchi riuscirono a sfondare. Il massacro fu tremendo. Si dice che addirittura 6.000 cittadini della città vennero catturati insieme ai soldati rimasti e passati per le armi. Di questi, pochi giorni dopo, circa 800 vennero presi, trascinati su una collina vicino e di fronte al rifiuto di abbiurare la religione cristiana vennero uno dopo l'altro decapitati. Oggi la chiesa li riconosce come martiri. E Napoli cosa faceva? Beh, Ferrante in realtà aveva cercato di organizzare una qualche forma di resistenza. L'esercito era lontano ma gli diede ben presto l'ordine di abbandonare la Toscana, peraltro questo salvò proprio la Toscana dei Medici, e di rientrare tramite gli Abruzzi verso il sud Italia. Inoltre mandò una serie di richieste di aiuto agli altri stati italiani e gli stati europei affinché inviassero navi e forze per poter intervenire contro gli ottomani. Gli ottomani in realtà, in ciò che rimaneva dell'estate, continuarono i loro attacchi contro i paesi vicino. Si spinsero anche fino quasi a Lecce nelle loro razzie, ma alla fine decisero di tornare ad Otranto e all'inizio dell'autunno di lasciare in gran parte l'Italia. Perché? Beh, l'obiettivo in realtà era quello di lasciare una forza di occupazione a Otranto, di cui avevano peraltro ricostruito le mura, rendendole anche un pochettino più funzionali, lasciando circa 6.000 uomini pensavano di poter tenere la città. Comunque volevano lasciare il Sud Italia, tornare in Albania, qui svernare, anche per motivi ovviamente di più facilità di rifornimento, e poi tornare magari più in forze l'anno successivo per proprio da Otranto riprendere la conquista e l'avanzata. Durante l'autunno in realtà gli italiani, i napoletani, grazie anche all'aiuto di navi provenienti da Genova e di armati di navi provenienti dal papato, riuscirono a mettere sotto assedio Otranto, che comunque continuava a resistere sotto la speranza di ricevere aiuti proprio dall'Albania. Le cose però stavano un pochettino cambiando. Il 4 maggio del 1481 morì infatti Maometto II e i due figli, Bayezid e Cem, iniziarono a lottare fra di loro per assicurarsi il trono. Maometto così rimase senza aiuti, tornò in città, cercò di dirigere l'assedio, chiese più volte che gli venissero inviate delle truppe, ma ovviamente quelle truppe servivano altrove. Il risultato fu che il 10 settembre 1481 Maometto fu costretto a trattare la resa. Il re di Napoli, di fronte al rischio che l'assedio si potesse prolungare, decise di accettare la resa, permettere agli ottomani di lasciare la città a patto che appunto non tornassero e potesse così riprendere la stessa otranto. Ahmed tornò in Albania e nonostante l'accordo che aveva fatto si mise subito a cercare di organizzare un nuovo esercito. Si schierò tra i due pretendenti con Bayezid, che peraltro sarà veramente il nuovo sultano, con la speranza che questi, una volta vinta la guerra civile, potesse fornigli le truppe di cui aveva bisogno. Ma Bayezid, nonostante la vittoria, non fidandosi di Ahmed, lo fece decapitare. Lo fece arrivare a Costantinopoli, a Istanbul, e qui lo fece decapitare. In Italia intanto qualcuno stava pensando di sfruttare quella vittoria, la riconquista di Otranto e le truppe che erano state ammassate per organizzare una spedizione proprio contro l'impero ottomano. E quel qualcuno era il papa, il quale aveva addirittura giunto a promettere di impegnare tutti i suoi ori urgenti per finanziare una spedizione che potesse ricacciare gli ottomani fuori dall'Europa e magari riconquistare la stessa Istanbul. Il momento sembrava buono, la guerra civile, gli scontri, parte delle truppe impegnate, ma in realtà non era così buono per la coalizione, a cui faceva parte Napoli, di cui faceva parte Napoli, di cui faceva parte il papato, di cui faceva parte Genova e in realtà poco a pochi altri, perché la Francia d'Inghilterra, che inizialmente avevano promesso truppe, poi rinunciarono, non inviarono mai niente, dalla Spagna anche lì, grandi promesse dall'Aragona, ma non giunsero particolari navi, Venezia, come detto, aveva questo accordo di pace e non voleva infrangerlo, addirittura qualcuno nel nord, cioè Lorenzo de' Medici, che aveva salvato il suo potere proprio grazie all'arrivo dei turchi, giunse a coniare delle medaglie commemorative per la conquista di Otranto da parte ottomana, ovviamente come presa in giro verso Napoli e verso il papato. Col tempo gli ottomani si ristabilizzarono, Baezide vinse lo scontro e di questa ultima crociata non se ne parlò più. In realtà non si parlò più neanche di un'invasione ottomana dell'Italia, anche perché, imparato la lezione, Ferrante si sbrigò a creare una serie di fortezze più moderne che potessero difendere eventualmente la Puglia da un nuovo attacco. I successori di Mahometto si concentrarono sui Balcani, si spinsero, come detto, fino all'Egitto e non organizzarono più, anche dopo la famosa sconfitta nella battaglia di Lepanto, nessun attacco verso l'Italia. Si spinsero ovviamente nel Nord Africa, attaccarono più volte Malta, ma mai più tentarono un attacco in forza verso il Sud Italia. Questo non toglie che, secondo alcuni storici, se nel 1481 un nuovo esercito ottomano fosse sbarcato, e sarebbe stato più numeroso di quello cristiano, pensate che all'assedio di Otranto i napoletani avevano circa 15.000 uomini, mentre, come vi ho detto, gli ottomani erano sbarcati con 18-20.000, pensate fossero tornati ancora più in forze. Bene, secondo alcuni, in realtà questo attacco avrebbe preoccupato molto la cristianità. Lo stesso Papa, secondo alcuni, era stato spinto, in caso di un nuovo sbarco ottomano, ad abbandonare Roma e rifugiarsi ad Avignone in cerca di tempi migliori. Ma ovviamente questo non lo sapremo mai. Io mi fermo qua, spero che questa pidola vi sia piaciuta. Come al solito vi ricordo che se volete discutere di questi argomenti, venite sul canale Telegram, venite sulla pagina Facebook della Biblioteca, seguiteci su Instagram e, come al solito, vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto!